Amici, stasera siamo tornati al Santissima Trinità, la freccia indica il reparto maxilofacciale, infatti vogliamo mostrarvi che cosa è cambiata dopo la denuncia fatta da noi di Castelduonline sulla baraccopoli dei tossicodipendenti, proprio dietro potete vedere il reparto maxilofacciale. La direzione sanitaria era tempestivamente intervenuta anche sul sollecito del NOE, Nucleo Operativo Ecologico di Cabinieri. Qualcosa è già cambiato, potete vedere alle mie spalle che è stato posizionato un cancello e vediamo un attimino che cosa c'è là dietro. La baraccopoli è stata smantellata, sono stati portati via, è stato portato via un ingente quantitativo di materiale che non stava a fare proprio nulla, rifiuti, decine e decine di siringhe, materassi, di tutto e di più. Quel che è più importante naturalmente è il posizionamento di questo lucchetto e finalmente di una cancellata come si deve. Dal Santissima Trinità per ora è tutto, a presto!